Io ce l'ho con Max, perché è stato lui a tutti i suoi fan di dire, di scordarci di D'Impostore e D'Arcancello. E per questo mi sono alleato con D'Impostore, per sconfiggere Max Gamer Official. Ciao! E allora, che l'alleanza dei fratelli alieni di D'Arcancello e D'Impostore abbia inizio contro Max Gamer Official. Le nostre sfide mortali, le mie sfide e quelle di mio fratello D'Arcancello, e le nostre sfide aliene distruggeranno Max Gamer Official. Siamo due contro uno.